Non sono qui per fare l'eroe, il nostro impegno deve portare a salvare le vite. Sono le parole del neossessore alla sanità, Filippo Saltamartini, che questa mattina a Palazzo Raffaello ad Ancona ha incontrato i giornalisti per annunciare le nuove misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19. Durante la conferenza che FanoTV ha trasmesso in diretta sui social e sul canale 17 del digitale terrestre, Saltamartini ha comunicato che entro venerdì verrà aperto un modulo da 14 posti in terapia semi-intensiva del Covid Hospital di Civitanova Marche. L'assessore ha sottolineato l'insufficienza dei reparti intensivi e una paurosa carenza di personale, fattori che hanno portato Acquarogli a chiedere al Ministero, medici e infermieri della sanità militare, in particolare della Marina, perché possano contribuire ai servizi della struttura ideata da Guido Bertolaso. Abbiamo bisogno di un nuovo personale medico per non sguardire i servizi necessari alla sanità ordinaria degli ospedali, alla cura delle malattie oncologiche, per esempio, piuttosto che alla chirurgia. L'assessore, che ha reperito i dati attuali, ha fatto un bilancio dei posti letto, che ad oggi sono complessivamente 129 nelle terapie intensive, sui 220 totali, considerando i 115 presenti in epoca pre-Covid e i 105 posti autorizzati dal DPCM, di cui ne sono stati attivati soltanto 14. Si tratta dell'8,3% rispetto alla popolazione marchigiana, che porta la nostra regione ad essere al terz'ultimo posto nella classifica italiana. Da attivare restano 41 posti a Marche Nord, 10 dei quali saranno pronti dal 1 novembre, mentre gli altri 31 entro la fine dell'anno, poi 38 a Torrette, 7 a Iesi, 5 a San Benedetto del Tronto. Saltamartini poi ha annunciato le novità per i tamponi. Abbiamo raddoppiato la dotazione dei tamponi. Il problema è che la regione, con il suo personale, ne processa solamente 2.200. La domanda è molto più alta. Quindi abbiamo chiesto ai farmacisti e ai medici di famiglia di operare in questo senso. Nei prossimi giorni ci vedremo e con il loro aiuto concluderemo anche questo accordo, allargando la platea dei tamponi e anche ai bambini che devono rientrare a scuola e a tutte le categorie a rischio, compreso il personale sanitario e delle forze di polizia. Anche i vaccini anti-influenzali verranno raddoppiati. Passeranno dagli attuali 440.000 a 860.000. L'assessore poi ha dato disposizione di convocare le associazioni rappresentative dei medici di famiglia per stringere un accordo. Noi abbiamo bisogno che il sistema della prevenzione funzioni al meglio per evitare l'ospedalizzazione e quindi l'aggravamento nei reparti. E soprattutto abbiamo raddoppiato il numero delle unità che arrivano a casa. Abbiamo dato disposizione direttiva di comprare altri strumenti per fare la radiologia a casa, la radiologia toracica. I malati quindi non si dovranno recare in ospedale, ma attendere le usca che verranno potenziate con più mezzi e personale. Inoltre è stata data la direttiva di convocare i sindacati per concludere un accordo e liquidare l'indennità di rischio che spetta ai sanitari. Trovo ingiusto, ha detto l'assessore, che chi rischia la vita contro un nemico pericoloso e mortale non abbia ancora ricevuto questo riconoscimento. Abbiamo chiesto anche alle cooperative di medici in pensione di attivarsi, di concorrere ad aiutare la sanità marchigiana, oltre ai medici militari. E poi abbiamo chiesto, abbiamo dato la direttiva al servizio sanità di impiegare anche i medici specializzanti, ma anche i neolaureati, che chiaramente devono essere però addestrati in queste strutture. Un appello infine è stato rivolto ai marchigiani, perché dai dati emerge che la maggior parte dei contagi avviene in casa tra parenti e nei rapporti con amici e fidanzati, spesso asintomatici. Un invito dunque ad utilizzare mascherine, gel e distanze per tutelare in particolare le categorie più fragili, comenziani e disabili. Abbiamo l'impegno tutti di salvare anche una sola vita, e quindi anche i soggetti e l'informazione hanno un compito fondamentale e importante, non solo quello di informare, ma anche quello di formare l'opinione pubblica, formare le corrette prassi dei cittadini. Insieme davvero penso che ce la possiamo fare.